Se dobbiamo fare un allenamento intenso, non abbiamo zone, come si dice, pianeggianti o piste di atletica a disposizione, mi butterei sempre sul medio. C'è un famoso proverbio cinese, che sicuramente conoscerete già, che recita così. Se volete avere un anno di prosperità, coltivate il grano, se ne volete dieci, piantate degli alberi, ma se volete cento anni di prosperità, assicuratevi di far crescere le persone. Un anno e mezzo fa, io e Andrea abbiamo deciso di aprire un canale YouTube con l'intento proprio di far crescere la comunità di podisti amatori italiani, portando recensioni dettagliate, nel frattempo è arrivato il mio mitico coniglio, e offrendo consigli di allenamento a chi non aveva un allenatore, oppure non aveva un negozio di fiducia a cui rivolgersi per l'acquisto di scarpe. A fine anno non so dirvi se l'esperimento sia davvero riuscito, ad ogni modo oggi vi vogliamo raccontare come allenarvi durante queste feste. Lo faremo comunque ricordando anche i dieci momenti più importanti del canale di quest'anno, cinque sportivi e cinque relativi al canale stesso. Per chi non lo sapesse, io sono Massi, parlo di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa e se potete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni dettagliate. Ora vado in pista a Garbagnate, mi allenerò con Andrea e cercando comunque di raccontarvi come allenarvi durante le feste. Sappiate che tra due giorni parleremo della recensione dettagliata delle Oka Clifton 7 e delle Rincon 2, scarpe che sono state parzialmente acquistate con Buy Me A Coffee. Il prossimo progetto Buy Me A Coffee sarà relativo alle Adios Adidas Pro. Se volete contribuire, il link è qua sotto. Sentiamo comunque da Garbagnate il Pro Depodista che ci racconta l'allenamento durante le vacanze. Andrea, buongiorno. Ciao Max, non volevi venire qua di fianco? Dopo vengo di fianco. Sei sicuro che per le vacanze non bisogna allenarsi intensamente? No, no, alleniamoci intensamente, alleniamoci come abbiamo voglia. Sicuramente, te l'avevo detto, è il momento migliore per mettere le basi per la stagione primaverile, se ci sarà. E quindi cosa suggerisci di fare? Io, guarda, mi allenerò molto su fartlek, variazioni di ritmo e allenamenti con scarpe chiodate sull'erba quando potrò e allenamenti come 2000-3000 eccetera, quindi ripetute lunghe. Tieni conto che ormai è da un anno che abbiamo aperto il canale, quindi al posto di far vedere la tua facciona, nel video mostrerò cosa abbiamo fatto durante quest'anno. È una sorta di celebrazione, ma comunque ti farò le domande su come allenarsi durante queste vacanze. Il video si fa il 30 dicembre, il 31 dicembre, questo video qua però... Beh, c'è la zona rossa, quindi l'abbiamo preparato qualche giorno prima, ma alla fine uscirà il 28 dicembre. 31. Dai. Cosa farai durante queste vacanze di Natale? Come ti pensi di allenare? Diciamo che dopo la debacle, le spighe che ho avuto in maratona, ho deciso col coach di prendermi una settimana di riposo, anche perché questa settimana qua sto facendo fatichissimo a correre, ho ancora tutti i postumi dell'influenza e quindi faremo una settimana di svago, dieci giorni e poi nel periodo invernale credo che ci picchierò giù dentro, ripartendo con calma ma sfruttando i momenti di buchi dalla scuola che ho. Credo che farò tanta costruzione, quindi lavori al medio, variazioni, lavoro con chiudate su erba, salite e compagnia. Sicuramente punterò direttamente alla primavera, quindi credo che farò ancora una maratona, adesso mi è rimasto lì il pallino e di mezzo metterò solamente una mezza maratona, neanche come testo, voglio picchiare giù dentro sia in mezza che in maratona, vediamo cosa ne esce. E se dovessi dare un consiglio, cosa suggeriresti per chi sta pensando di valutare la preparazione primaverile? Allora, guarda, io forse fino all'anno scorso avrei detto godetevi le vacanze, in questo momento ti direi godetevi le vacanze ma correte sfruttati i momenti che avete, siete sicuramente più tranquilli, liberi dal lavoro, dalla scuola, chi va ancora a scuola, direi che è il momento migliore per fare degli allenamenti un pochino più strutturati, magari un pochino più lunghi e magari anche avere la possibilità di spostarsi e andare a fare dei collinari o altro, anzi neanche tanto spostarsi se ci si mette in zona rossa, però comunque è da sfruttare questo periodo dove abbiamo più tempo per fare degli allenamenti più strutturati, in tranquillità. Sappiamo che in questo periodo solitamente negli anni scorsi c'era una possibilità di fare dei cross, come vedi i cross, sappiamo che non ci saranno, cosa ne dici? Ma al dire vero io a Garbagnate li farò i cross, ho un giro da 500 metri dentro nella pista, all'esterno della pista, quindi metterò le chiodate e quindi farò dei lavori di campestre, ci credo molto nella campestre, credo molto nelle gare di campestre perché ti tirano fuori davvero qualsiasi roba, ti fanno capire cos'è la vera fatica e le ho sempre fatti anche se sono molto poco performante in campestre, le faccio perché davvero con la fatica che oltre che allenanti e con la fatica che poi porto in gara la porterò sulla 10 km, sulla mezza e ogni volta mi dico ho fatto quella fatica lì in campestre e oggi sto facendo una passeggiata. E l'anno scorso c'era il campaccio, quest'anno quando ci saranno queste gare? I campacci Cinque Molini sono stati spostati ai primi barra metà febbraio, sperando che si facciano, sperando almeno che facciano la gara assoluta, comunque te l'ho detto, un allenamento a settimana credo di campestre lungo lo farò, quindi sto pensando a 5 volte i 2.000 medi variati da 10-12 km con sulle chiodate li farò in mancazza di queste gare, non sarà la stessa cosa perché non riuscirò a tirar fuori la stessa grinta che tiro fuori in gara, però ci alleniamo. A livello di lunghi le consigli oppure è meglio rallentare il volume? Ma dipende anche un pochino, adesso qua ormai è tutto un po' una confusione, io, cioè o meglio chi è riuscito a fare la maratona adesso sicuramente dovrà fare 2-3 settimane di scarico per poi ripartire per la nuova stagione, gli altri invece bisogna un po' capire, qualcuno aveva perso le speranze, però ripeto secondo me bisognerebbe sfruttare queste 2-3 settimane di vacanza dove ci sia più tempo per fare sì anche qualche lungo che per buttare giù qualche calore in più non guasta. A livello di ripetute e allenamenti intensi cosa suggerisci? Dipende, dipende anche qui, anche io devo valutare, devo capire come sarà la pista, comunque siamo in un periodo di costruzione quindi assolutamente ripetute lunghe o medi variati oppure medi continui o comunque lunghi. Non c'è molto da fare, collinari, crono scalate, crono scalate in questo periodo è un po' un problema perché dopo c'è la parte della discesa oppure comunque per ritornare giù che fa abbastanza freddo. Va bene, invece virtual racing con gli amici, cosa ne dici? Noi la nostra ASICS Echiden abbiamo fatto un fallimento completo però soltanto tecnologico perché comunque avevamo corso abbastanza bene. Guarda, a parte che forse fanno più male all'animo queste gare qua che altro perché chi sta andando in palla perché non ha gare, queste gare virtuali all'inizio forse valeva la pena farle, adesso vedo che si sta spegnendo anche un pochino l'entusiasmo ed è sempre difficile tirar fuori un po' di voglia e cattiveria in più per farle. Sicuramente servirebbero perché i corti veloci comunque vanno bene sempre anche in questo periodo però forse punterei su dei medi sopra i 15 chilometri. Se riusciamo durante le vacanze cercheremo di fare la Echiden fatta bene in pista, quindi faremo anche un bel video. I nostri compagni di squadra avevano performato davvero bene, fatta assieme sarà sicuramente una bella idea. Ti chiedo l'ultima cosa, dal punto di vista delle chiodate, quali suggerisci, le suggerisci, a chi le suggerisci e in quali condizioni? Allora io con le chiodate ho sempre aperto guerre con tutti, dicono che facciano male, le chiodate su pista fanno abbastanza male, logorano abbastanza i tendini, soprattutto per chi non le riesce ad usare, io sono uno di quelli, corsa di avampiede spingendo i chiodi faccio davvero fatica, però in corsa campestre le consiglio assolutamente a tutti perché correndo in campestre hai tantissima ammortizzazione data dal terreno morbido, quindi anche se hanno poca ammortizzazione, anche se adesso le scarpe da campestre le stanno facendo con un po' di gomma, un po' di schiuma, direi che sono consigliate a tutti, soprattutto perché correre con le scarpe da trail è secondo me più pericoloso, perché se si scivola sull'erba, se si continua a scivolare sull'erba ci facciamo male tutta la zona interno coscia. E invece quale scarpe utilizzerai normalmente per la tua corsa? Io sto usando quelle della Decathlon, mi trovo benissimo, infatti le consiglio a tutte, qualità prezzo secondo me sono ottime, hanno la piastra dei chiodi che è in plasticaccia, che uno direbbe che è un malus e invece io mi ci trovo da dio perché riesco a grippare molto meglio nel terreno. E invece cosa suggerisci come unico allenamento intenso da svolgere durante queste vacanze? Ma io se dobbiamo fare un allenamento intenso, non abbiamo zone, come si dice, pianeggianti o piste di atletica a disposizione, mi butterei sempre sul medio, se dovessi scegliere un allenamento. Un medio oppure un medio con delle parti un pochino più forti. Quindi a me piace tanto fare, che ne so, decidiamo la lunghezza, 12-14 km, ogni 4 minuti a ritmo del medio o qualche secondo più lento ci metto un minuto più forte. Per un totale di? Eh, dipende, dipende. Io fino a poco tempo fa ero abituato a fare dei medi da 25 km per la maratona, quindi potrei, per dirti, farne da 18-20 km. Chi non era abituato, almeno che si abitua a farne 10-12-14 km. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni continueremo a fare delle recensioni. Io esisto con Andrea, grazie Andrea. Speriamo di vedervi presto, buone vacanze, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Si vede che stavo dormendo.